Partiti, un piccolo tour eh? Tre giorni, poca roba eh? Perché questa signora qua ha fatto un mese micidiale con il lavoro e allora si merita una vacantina. Ma che bello! Tour in Veneto, un po' di giorni in Veneto, siamo a Bassano del Grappa, la prima sosta è qua. La c'è il Ponte degli Alpini e qua c'è il Gigetto e la Catina. Ciao a tutti! Ciao! 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 Stasera ve la diamo da Piazza della Libertà. Ciao! Eccola Tati! Buonanotte! Ma che spettacolo! Ma che spettacolo! Buonanotte! Si Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo lasciato Bassano del Grappa. Adesso sto salendo sul belvedere della specola. Abbiamo raggiunto Asolo in provincia di Treviso. Adesso siamo saliti qua sopra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sempre Padova, siamo in centro, siamo al Palazzo della Regione. Abbiamo appena visitato la Basilica, la Cappella degli Scroveigni. Adesso siamo qua, in centro c'è anche la Tati. Bello, bello, diciamo che il secondo giorno non è male neanche questo. Adesso, dai. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Venerdì, venerdì. Grazie a tutti. 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 Spettacolo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.